Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle montagne, curiosità di carattere culturale, mappe e poi immagini capaci di far sognare. L'unicità del paesaggio dolomitico è narrata in Dolomiti Uno sguardo tra le rocce, la nuova guida geoturistica sulle montagne più belle del mondo a cura di Emiliano Done, Gianluca Piccin, Stefano Furin e Giovanni Carraro per Ediciclo Editore. È la volontà di portare con parole semplici quello che è il mondo della scienza e della geologia. Io ho partecipato a tutto questo progetto con la mia consueta capacità di raccontare un itinerario a piedi. Invece il gruppo di lavoro dei geologi hanno portato la parte geologica con gli argomenti specifici legati a quello che è il territorio delle Dolomiti Unesco e abbiamo insieme creato una sorta di sintesi in maniera fruibile, facile da leggere e facile anche da interpretare per il pubblico allargato. Il lettore e l'escursionista vengono così accompagnati in un percorso di scoperta e riscoperta di un immenso patrimonio naturale e culturale. Questo volume è caratterizzato nel concentrarsi sui due sistemi dei nove delle Dolomiti Unesco. Si tratta del sistema 1 Permocro da Lago e del sistema 5 Dolomiti Sedentrionali. Rispettivamente abbiamo 5 itinerari sul sistema 5 e 3 sul sistema 1. Fra i temi trattati anche quello del cambiamento climatico. C'è un capitolo che parla di un cambiamento climatico del passato, avvenuto circa 233 milioni di anni fa nel Triassico, che dà un sacco di indicazioni su come queste crisi si innescano. A far da Ferruge naturalmente la grande passione per la montagna. Io sono affezionatissimo perché sono nato a Pieve di Cadore. Ovviamente non posso tradire le Dolomiti. Chiaramente negli ultimi anni mi sono dedicato più nella parte prealpina. Ora sono sul Monte Grappa, presenterò anche un libro sulle colline del Prosecco Unesco, territorio Unesco anche quello, però il cuore resta sempre nel mondo bellunese per me.